SLOBODAN 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 THIS PRESENT SLOBODAN POR LIins ABORDI 编 Di UNO molto difficile complicato abbiamo arrivato in una posizione buona per rimanere a uno che per noi quest'anno è una cosa più importante il nostro oggettivo dal primo giorno secondo me già abbiamo fatto una una stagione buona ma senza queste ultime partite e niente proprio nulla e bisogna fare tutto possibile fare i nostri giochi migliori in prossimi in questi prossimi giorni prossimo mese e fare tutto possibile vincere una o due o tutte e tre o prendere tutti i punti possibili per fare questa questa anno anche in più. Senti analizziamo la prossima partita che è la prima di questo trittico col Trieste quindi una partita molto difficile. Sì settimana scorsa loro hanno vinto contro Firenze hanno vinto una partita molto importante per loro e adesso siamo quasi otto squadre che sono in posizione per giocare play off o final six o giocare play out è un anno molto complicato per tutti ma loro hanno migliorato un po hanno vinto contro Firenze che è una squadra forte e molto seria per loro è una cosa buona abbiamo già giocato contro loro abbiamo perso 5 e 4 in Trieste era una partita senza Giovanni Bianco. Sì senza Giovanni ma non lo so già Giovanni è migliorato si vede già in allenamenti e fisicamente più forte ma sono questi movimenti speciali specifici che hanno già ritornati a mano da lui e speriamo che che lui da una forza in più per per noi perché un centro è una posizione più importante in Palano 8. Senti importantissimo sarà il sossegno di tutto il pubblico della Rari del grande pubblico della grande famiglia della Rari voi Vasca lo sentite perché magari uno dalle gradinate dice vabbè ma io ci sono ma loro non se ne accorgono invece voi ve ne accorgete? No certo è una cosa sempre buona quando ci sono tante gente che ti appoggiano che vogliono vedere cosa meglio possibile vincere ogni partita ma anche io ricordo 2011 quando ho giocato contro Savona io stato in Partizan abbiamo giocato finale della Supercoppa la piscina era piena era altro ambiente è sempre bello ma secondo me per questi ragazzini può essere un motivo in più per per fare più energia più impegno e tutto possibile che noi bisogniamo per fare uno o tre punti o tutti nove ma quello vediamo alla fine allora l'appello del capitano Slobo Dansoro anzi più che appello l'invito venite in piscina per il 27 aprile per guardare noi contro Trieste una una partita fondamentale per noi in questi ultimi mesi per fare tutto possibile rimanere in A1 grazie grazie e sempre Forza Rari